Una risposta massiccia di solidarietà si registra in questi giorni nel capoluogo, nei confronti dei profughi afghani arrivati in Abruzzo. Il Comitato della Croce Rossa Italiana dell'Aquila ha infatti attivato un servizio di raccolta di vestiario, giocattoli e prodotti per l'igiene personale da inviare al centro operativo della Croce Rossa di Avezzano, dove i profughi hanno trovato primo ricovero. Considerate che noi siamo stati di supporto per una famiglia, un bambino che è stato ricoverato all'ospedale dell'Aquila per una gastroenterite, siamo stati in contatto con il pronto soccorso pediatrico e con la dottoressa Bottone, quindi abbiamo trasferito prima lo zio e poi ieri abbiamo riportato il bambino presso la struttura di Avezzano che fortunatamente era guarito. Adesso siamo partiti, come sapete, abbiamo diffuso sia sui social che attraverso la stampa con la raccolta di vestiario, capi nuovi, possibilmente per il problema della pandemia, quindi del Covid, capi nuovi, giocattoli per bambini, soprattutto ci richiedono palloni perché vanno molto. Oltre ai beni vengono donati anche soldi. La gente veramente si sta recando a flotte proprio, questa mattina ne sono arrivati tantissimi, molti danno anche dei soldi in modo che noi possiamo comprare i pannolini per i bambini, queste cose che non portano. Sono venuti tanti signori, noi rilasciamo una ricevuta, ovviamente per i soldi è più facile, per il vestiario mettiamo in generale, però stiamo raccogliendo diversa roba. Ovviamente c'è questo problema che non staranno tutti ad Avezzano, quindi cercheremo di portarli anche negli altri punti di accoglienza appena ci daranno l'ok per portarli. Ma il problema ora sono le scarpe e la responsabile del servizio fa un appello alle ditte di calzature. Per le scarpe c'è un problema perché non sappiamo i numeri, quindi per il vestiario stiamo bene perché ci stanno dando delle cose belle, nuove, e quindi stiamo tranquilli. Sono le scarpe che mancano, quindi magari qualche ditta che potrebbe fare uno scarico di magazzino e ci dà vari numeri, questo sarebbe utile.